Gli amanti delle due ruote si sono dati appuntamento in città questo weekend per l'esattezza al villaggio Santa Barbara in occasione della quarta edizione della Gincana Vespistica e del quarto trofeo Angelo Brucheri. Evento organizzato dal Vespa Club di Caltanissette e dall'associazione sportiva dilettantistica Angelo Brucheri. Presenti per l'occasione gli appassionati provenienti da Caltanissette e non solo, di quel mezzo che per decenni è stato il simbolo della libertà di movimento. Sì, sicuramente Caltanissette è il centro della Sicilia, è un club che è rinato circa vent'anni fa anche se l'iscrizione, le origini sono del 1957, infatti in altro anno festeggeremo il sessantesimo anniversario. Sicuramente Caltanissette risponde comunque alle iniziative del club, ci sono molti partecipanti ma non solo i nostri Vespisti ma anche i club delle province limitrofe. Oggi sono arrivati i Vespisti di Enna, i Vespisti di Sommatino, ci sono i Vespisti di Agrigento, le Vespa Club Canegattì, quindi diciamo una miriade di persone. Quest'anno, così come è avvenuto anche in passato, alla sana competizione si aggiunge anche il desiderio di solidarietà. L'iniziativa si inserisce infatti nel progetto l'autismo sale in Vespa, in Vespa sulle Orme di San Francesco. Il ricavato dell'iscrizione andrà all'associazione Anchisa. L'associazione Anchisa è l'associazione nazionale genitori soggetti autistici che faranno il giro d'Italia a partire dal 3 settembre fino al 2 ottobre. A Caltanissetta saranno presenti l'8 settembre, ecco in quella data ci sarà una conferenza stampa, accoglieremo i quattro Vespisti che partiranno, faranno il giro d'Italia, quindi saranno presenti a Caltanissetta e sono Mastro, Rocco e Gaudino.